Vuoi venire? Te lo faccio sapere Ma siccome ho già messo su lei e qualcuno mi ha fatto... Si? Solo una roba... Ti devo guardare ancora da dietro, va bene Aspetta che parto da sotto Ti prego, ti chiedo un po' Non mi sento No, no, d'accordo D'accordo, d'accordo D'accordo Allora, partiamo da... No, facciamo vedere la mostra Ecco Allora, partiamo da qua Allora, spiega Spiega che... Spiega che... Tu sei prima Però... Va bene, dai Spiega, dai Spiega Io non devo spiegare... Il cane spiega un po' sto dietro Tu fai la portavoce del cane, dai Allora, com'è? Ma come su quella che non le dice molto, va bene Sì, bellissima C'è un po' una memoria corta, eh, ragazza Questa posso riprenderla? C'è un po'... Sì, sì, aspetta che... Allora, la tua portavoce sta parlando. Hai visto in internet qualcosa? Certo. Non se neanche andare a vedere. No, se me lo dici, vabbè, non posso vederlo allora. Esatto. Cioè, è come se io ti dovesse chiedere quando vengo qui. Perché stamattina andiamo arrivando a questa roba? Allora, io vado su, cos'era, il milanese e trovo il DVD. Stai da prendere qua. Vedi, perché poi io ribalco sempre. www.baggese.it Silvio, anche te, vai, capisco. È bellissima questa, sì, veramente. Vediamo anche questa. Spiegaglielo bene. Spiegaglielo bene. Eh, vieni a spiegarmi la lettera di Sarkozy. Non ti riprendo, dopo vieni a spiegarci la lettera di Sarkozy. Vieni a spiegare, Francesco. Eh, devi spiegare. E c'era la cuccia nell'Agenzia e si stava rossitiando questo osso. Era più grosso osso che il cane, no? E' arrivato un cliente, guarda, guardava questo osso. E' meravigliato che l'osso era più grosso del cane, no? Però sei più bella così, eh? Il mio amico gli fa, dice, no, dice, non si preoccupa qui. Dice, non è insultato, è un cliente che non pagava. Vieni a spiegare la roba, dai. Adesso hai capito perché mi piace Roma? Perché fanno queste roba qui, che è una roba che infatti incise. Vuoi mettere noi a Monsignor Busi? C'è venuto lui. Eh, certo che viene. Perché Silvio non è venuto lui. Tu sei qui, hai l'onore di avere Silvio, che non è quello degli elicotteri. Delle ville. È un Silvio vero, eh? Non lo so. Ma lo so. C'è un amico giornalista a Roma, che mi faceva Silvio. Qual è il Silvio? Il Silvio è vero? Tu adesso puoi fare un amministratore, ma per Silvio è vero. Però la devi specializzare. Guarda, quando hai fatto la mostra? In casa sua era lì. E la mostra, la biblioteca era qua. Non ho abitato. Ma va. Ti ho abitato solo su questa voce. Brava. Non ho abitato solo su questa voce. Non ti avrei più sostenuto se sapessi che invitavi lui, eh? Dai. Dai. Ciao, vieni. Hai visto che bello? È splendido, non bello. C'è la razzogna stampa. Ah, questa non l'hai vista. Aspetta, aspetta, aspetta. Eh, aspetta. Devo continuare. Mettiti su una maschera, se non vuoi essere ripreso. No, questo è... Mettiti sulla cosa di... Questo è il mio... Eh? Eh? Eh, vedo, sì. Figa loro. Questo è il manifesto. E questo sono... Questa è la... Dov'è? Ah, me l'avevi tolto, eh? No, qualcuno l'ha scostata. Guarda! Ho messo un po' come... Così. Ecco, tu che mi chiedi, guarda dov'è. Qui, qui, qui. Quello lì. Eh, a Cerra Academy. A me che fai la portavoce, però? È bellissimo. Vedi? Sono tutte le copertine. Io adesso voglio mettere i tifani sul blog. Ma non c'è un... Un posto dove li occupa tutti. Cosa? 18-19. Dov'è? Lo abbiamo preparato ieri. Se lo fai avere? Ovvio. Volevo dirti, ma possiamo trovare un paese... Non c'è mai... Niente di ovvio con te. Un paese. Eh? Il sindaco non la fascia. E... Facciamo la mostra. No, ma io ti posso portare il sindaco vero? Questo è il mio gattino. Anche. Vuoi dire che lo riprendiamo? Certo, hai capito cosa vuoi dire, eh? Eh? In un paese... Ah, bellissimo. Cioè, in un paese... C'è riflesso. Eh? Con la banda, il sindaco, la fascia. Oh... Sai dove lo possiamo fare? Lo possiamo fare a gaggiano, gaggiano. No, farlo tu, farlo tu. No, prendi contatto. Cioè... Dobbiamo farlo insieme. Sì, ovvio. Lo fai insieme a Silvio, dai. Sì, ho capito, io sono qua. Sono qua. Sono qui. Sei qua che dopo... Questa bestiolina qua pesa 7,5 kg. Pappa nera, botto. E' da lungo 90 cm. Bellissimo. Pachiderma è così. Allora, lo possiamo fare a gaggiano. Se vuoi, io ti porto... Un paese laggiano. Un paese di Benapolito di Milano. Sul Naviglio. Non c'è sul lago di Como che porto anche Manzoni. Certo che c'è sul lago di Como, ma sul lago di Como c'è sottoscritto e dopo... No, perché mi voglio raccontare il drammo del lago di Como. Ah, ah, ah. Vedi che non ha neanche guardato il sito. Se tu guardavi il sito, trovavi addirittura Bellagio, che è la Perla del Lago. Sono in attesa... Bellagio. Possiamo farla a Bellagio? No. Bellagio è lì vicino, per lavarsi... No, perché dopo devo... Perché se facciamo su un paese del ramo del lago di Como... Non solo Riccheggio Manzoni, ma insomma, in un paese come... Noi possiamo parlare. Capito? Senti il mio portavoce, che dopo vedo. Sì, certo. L'orchestra, fuori... No, la banda. Ah. La banda, insieme come una fascia. Tiffa e ce la faccio qui. C'è la faccio qui. C'è la faccio qui. Tiffa e così. Ah, sì? Sì. Sì. Dov'eri espedita... Divi scappare Giuliana. No. Chiudiamo qua, stanchiamo. È venuta Freeze Seen della costringerne alla zampetta di ferito della coronale. È venuta uno contro la zona? È venuta strettante la zampetta? Ass scappata? Sì, sì. Ha stretto la zampetta a firita? Sì, sì. Allora sono...